Gianluca Graziosi, primo giorno di lavoro per la Calonnelli Bergamo, entusiasmo, voglio divertirsi e giocare la nostra pallavolo. Tre prerogative che devono essere alla base anche di questa stagione. Sì, dai, credo che con tre parole hai riassunto tutto quello che dovrà essere la nostra stagione. Dobbiamo ripartire da tutto ciò che di buono abbiamo fatto l'anno scorso. Lavorare, grande entusiasmo, sorriso, divertirci, logicamente far divertire e creare grande entusiasmo intorno a noi. Dobbiamo ripartire da qua perché l'anno scorso credo che sia stato uno degli obiettivi più importanti che abbia raggiunto a Bergamo. E guardando il roster invece? Ma senti, credo che Vito, Insalata, ma la società tutta abbia lavorato bene. E ho chiesto di aggiungere esperienza a questa squadra. Eravamo già competitivi l'anno scorso. Quest'anno con l'arrivo di molti nuovi ragazzi e soprattutto con l'arrivo di giocatori che nella categoria hanno già giocato, hanno già vinto. Faccio due nomi su tutti, Dolfo e Valzecchi. Credo che abbiamo sicuramente aumentato le nostre qualità. Hai preso ad esempio Ogendor e il suo sorriso. Altra prerogativa base. Sì, va bene. Tu prima mi hai chiesto se la società ha lavorato bene sul mercato. Io credo che le conferme della diagonale palleggiatore opposto, le conferme di Pierotti, la conferma di altri ragazzi, credo che siano le basi per continuare il nostro progetto. Logicamente con il sorriso di Ogendor dobbiamo costruire la nostra stagione.